vi racconto come come abbiamo conosciuto questo dealer che arriverà tra poco praticamente siamo stati l'altra sera io tudor e chris al casino di lugano e niente abbiamo fatto amicizia con questo signore un po un po anziano che lavora lì da tanti anni e ci è interessato molto al nostro lavoro ha deciso di guardare un po quello che facevamo e ha deciso di venire qua stasera con noi soffre un po di spiazza è un po rincognito è un attimo rincognito eccolo salve un applauso vediamo un benvenuto ad alfredo il dealer più vecchio che voi siete mai conoscere il carino di lugano piacere 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 niente stiamo aspettando stiamo aspettando come avevo spiegato l'altra sera non so se si ricorda stiamo facendo qua la nostra streaming avete le persone che stanno lì in diretta hai detto che giocavi roulette come si fa come si fa la cazzo online online dal sito mai giocato lei online mio figlio gioca suo figlio gioca online aveva tramandato lei la passione no 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 non voglio che gioca lui gioca sempre anche io e gli schiaffi in faccia in più poteva dargli come come cosa cosa fa lei nello specifico adesso sono in pensione ma le pante al mi piace 67 67 aspetta minchia aspetta gabbro voglio far vedere una cosa altrimenti erano un po modificati si in cioè io il dealer in confidenza ok partita una canzone il dealer verso che è un ballerino magari ci fanno due passi davvero un po di mia adesso due passi con di tutto questa situazione vado a prendere una cosa un piccolo risveglio che cazzo va il dealer ma è tutto a posto stava al dito quali ti chiamano? Alfredo Alfredo sei andato? Alfredo! Alfredo! ma sei andato Alfredo? raga non so cosa stia succedendo sei incazzato Alfredo non lo so tu gli hai detto di ballare cosa perché lui ballava e lui fa 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 ballerino faceva ballerino e di lui è che va cosa che è? ha detto che mi fa il cosa Alfredo mi hai già fatto venire qua per far cos' io volevo giocare sennò stavo a casa eh adesso giochiamo adesso giochiamo scusa c'è ragione se pensate sia fake guardate la tier list dei dealer di Lugano Alfredo è il primo infatti non capisco neanche perché la gente rompa il cazzo cioè ragazzi comunque Alfredo non è che abbiamo parlato il primo dealer che passa ragazzi abbiamo parlato uno dei dealer più vecchi nel casino di Lugano uno di quelli che ci stava più tempo cioè ragazzi abbiamo parlato uno comunque che è conosciuto nell'ambiente ed è rispettato porco diaz cioè non è il primo pirla che passa ragazzi e andiamo a vincere tutto ragazzi diamo dei nickname diamo delle presentazioni aspettate ragazzi voglio essere un po' più giovanile no no che cazzo sta succedendo non si può metterci in un duo eh no ecco ha più stile di due ragazzi ecco 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 adesso decidiamo un attimo dove giocare vorrei dire con quella faccia mi staccava un malore no ragazzi sta bene non preoccupatevi è sempre in queste condizioni tutto bene dealer bello sveglio no ok bello sveglio il dealer non è dealer sul lago ai bordi video di puttana dealer di merda scaccora lì dentro ci teneva a capire se signor Albedo vuole concedere il più piccolo una pezza danza muova un po' la gamba così e so che non è roba per vecchi 7 люд finito il circo finito il circo finito il circo ringrazio mi chiamo è atleticissimo è atleticissimo porca miseria Ok, mi piace, ho messo pochissimo Sì, sì, molto più Più vintage Mi piace, mi piace